La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Catania e i funzionari dell'Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli della Direzione Territoriale Settima Sicilia, nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura Europea di Palermo, hanno dato esecuzione delle province di Catania, Palermo, Enna, Catanzaro e Reggio Calabria a un'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha disposto misure cautelari reali per un valore di circa 25 milioni di euro nei confronti di otto società, due ditte individuali e tredici indagati, ritenuti a vario titolo responsabili dei reati di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa su prodotti energetici, nonché di infedele dichiarazione dei redditi, emissioni di fatture per operazioni inesistenti e omessa dichiarazione dei redditi al fine di evadere l'imposto sul valore aggiunto. L'indagine, condotta dalle unità specializzate del Gruppo Tutela Finanza Pubblica del Nucleo della Guardia di Finanza di Catania e del Gruppo Operativo Regionale Antifrode della predetta agenzia, ha riguardato due diversi gruppi criminali che avrebbero commercializzato prodotti petroliferi illecitamente introdotti nel territorio nazionale per la successiva rivendita a basso costo in evasione dell'IVA e delle accise di gasolio, uso agricolo e miscele non autorizzate fraudolentemente destinate all'uso autotrazione. Secondo le indagini eseguite allo Stato degli Atti attraverso tecniche di riscontro sul territorio, analisi documentali e richieste di mutuoassistenza e cooperazione amministrativa, un primo gruppo criminale avrebbe provveduto a introdurre illecitamente nel territorio dello Stato ingenti quantitativi di prodotti energetici provenienti da Austria, Germania, Repubblica Ceca, Romania e Slovenia formalmente indirizzate a due depositi in provincia di Verona e Catania ma di fatto destinate ad altri siti etnei di stoccaggio gestiti dagli indagati con il fine di cedere a basso costo i citati carburanti a favore di imprese di autotrasporto e distributori stradali operanti nel territorio siciliano. La competitività dei prezzi praticati inoltre sarebbe stata assicurata grazie alla sistematica evasione delle imposte dovute sui prodotti energetici in particolare all'IVA ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti e alla successiva omissione o alla presentazione di dichiarazioni fiscali infedeli. Il secondo gruppo criminale invece con base operativa in provincia di Catania avrebbe effettuato cospicui acquisti di gasoli a uso agricolo e prodotti energetici allungati con oli esausti di scarsa qualità presso tre diversi depositi commerciali di Reggio Calabria, Gioia Tauro e Palermo per poi commercializzarli in Sicilia senza versare le relative imposte. Le ipotesi investigative sarebbero supportate anche dall'esecuzione di specifici incontri sulla reale movimentazione dei prodotti energetici in ambito regionale che hanno portato al sequestro di oltre 125.000 litri di carburanti di illecita provenienza unitamente ai mezzi e alle attrezzature utilizzate per il trasporto e lo stoccaggio della merce.